Prima i dati relativi all'azienda sanitaria, o ancora altri dati come quelli della viabilità, delle strade che portano alla struttura, queste sono tutte informazioni che vi servono, che possono essere riutilizzate da progetti diversi, che potete trovare ad esempio sul sito del Comune di Loco, non so se hanno molti dati sul sito del Comune di Loco, dati i dati dei progetti e quindi a cose che non hanno nessuna attivenza con il vostro progetto, quindi allargatela, mi stanno dicendo no? Abbiamo trovato qualche dato che riguarda i trasporti per raggiungere, se ne abbiamo constatato che i trasporti, per esempio, che vi hanno dato... Questi dati dove li avete presi? Eh, tramite l'abbiamo trovato sia dal sicurice delle permette che dava indicazioni su quanto riguarda i treni e i punti che... Avete verificato poi sul sito, ad esempio, per i ferrovi dello sparo? Sì, praticamente, secondo me niente, con i mezzi pubblici, solo di mattina, domenici è possibile andare, nonostante la data. E l'abbiamo trovato anche nel studio delle strade? Eh, no, quella non, no. Ok, guardate anche eventualmente questo. Certo, poi alla fine vi vengono tantissime idee di controllo, di cose che possono essere interessanti, però comunque limitate a quella che, come diceva anche Loredana, poi il finanziamento proprio che avete voi come progetto, quindi non allargate troppo perché poi più si messa e più potete stare addirittura a qualcosa di globale. Grazie. Grazie. Grazie.